Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento della Ferrari 330 P4, ritenuta l'auto da corsa più bella di sempre. Ovviamente questo è soggettivo, ma è in dubbio che ha un fascino particolare. L'edizione Centauria, la scala è in 1 a 8, l'uscita è il numero 3 delle 110 previste per il completamento di questo modello. Io non sono un esperto di quest'auto, non ne conosco praticamente la storia. Sto leggendo i fascicoli, come tante volte in diversi video esorto voi a farlo, perché è importante anche la storia del modello. È un po' quando si va a vedere un'animazione al cinema piuttosto che un film che ci piace tanto, e poi troviamo un gadget che diversamente non avremmo mai acquistato, ma il fatto stesso che ci sia una storia dietro questo oggetto ce lo fa apprezzare. Ecco, vi esorto per questo a leggere la storia dei modellini che andate a montare, perché non esisterebbero senza questa. Quindi, ecco, provate a leggere qualche fascicolo e vedrete. E poi ci sono anche tante informazioni che non sono proprio inerenti al modello, ma che comunque vertono intorno a quello che è l'ambiente, in questo caso delle corse e delle costruzioni delle auto, e di tutto quello che riguarda la storia, appunto, magari anche dell'azienda oppure dei piloti stessi. Quindi, ecco, fatelo ragazzi, perché vedrete che sicuramente è un arricchimento in più. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie di cuore del vostro supporto, siete voi la vita del canale. L'altra settimana ho avuto 30 condivisioni dei miei video nei gruppi dedicati, e di questo vi ringrazio. Iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Ecco qui, un raggiante Scarfiotti che purtroppo poi perse la vita durante una gara all'età, se non ricordo male, ma vorrei tanto allungargliela, all'età di 35 anni, perché l'avevo letto, e ripeto, non sono un esperto, l'avevo letto quando ho fatto il video unboxing di questo nuovo invio. Allora, io vi dico cosa vi serve. Un cacciavite, ovviamente a croce, ma questo è ovvio perché sono vite a stella, però vi potrebbe anche servire per le viti SM un cacciavite con la punta un po' più piccola. Usate cacciaviti validi, contrariamente a quello che vi farò vedere io adesso, perché rovinate la testa delle viti. Adesso io facendo più modelli li sostituisco e questi ancora non sono rovinati, ma vi garantisco che non arrivate al montaggio di metà del modello quando poi vi renderete conto che è veramente ora di buttarli. Poi, una piccola lima e per la prima volta vi faccio vedere l'Attac. O comunque una qualsiasi altra colla, perché andremo a bagnare appena appena appena, perché se andrete a bagnarle troppo non serva nulla, e invece andando ad intingere pochissima colla sul filetto della vite, anche se non sarà questo il caso perché non dovremmo più rimuoverle, vi sarà possibile rimuoverle qualora ce ne fosse il bisogno. Non usate in questo caso, se seguirete le mie indicazioni, che ripeto non sono un esperto, non l'ho detto ancora in questo video, ma lo dico quando mi ricordo, perché sono un appassionato come voi ragazzi, niente di più. Se voi trovate qualcosa che vi possa servire nei miei montaggi, usatelo, altrimenti il modello sicuramente sarete in grado di montarlo senza il mio aiuto. Io ho fatto così per gioco all'inizio un po' di video e mi sono appassionato. Ecco, non vivo certamente di questo. Allora, andiamo a vedere quello che troviamo. Questo pezzo è tutto in metallo, molto bello, ed è la scatola del cambio sinistra, lato sinistro. Guardate qui. Che meraviglia, questa dovrebbe essere la coppa, parte della coppa dell'olio perché è la parte sinistra. Poi abbiamo questo che è il coperchio posteriore, dove abbiamo i bulloni che sono stati riprodotti con lo stampo, ma messi in evidenza con della vernice nera. Eccoli lì. Questo è un pezzo in plastica. Poi abbiamo il carter anteriore del motore, plastica. Il trascinatore del semiasse. Il giunto a crociera, quello che poi legherà nella funzione il trascinatore e il semiasse stesso, che è questo. La pompa dell'acqua. Il dettaglio del carter. Tutto quello che vi sto facendo vedere, a differenza di questi pezzi, che sono in metallo, e tutto in plastica. Poi abbiamo tre serie di viti, una da avvitare nella plastica, ecco qui, e due da avvitare nel metallo. SM, AM e AP. Bene, adesso, fate attenzione, andate a provare ad inserire questo perno qua. Se vedete che il buco, il foro è occluso dalla plastica, lo liberate con uno spillo o un chiodino, che però necessariamente deve essere di diametro inferiore a questo perno, altrimenti poi dovrete incollarlo. Un attimo che guardo una cosa, sì, proprio così. Eccolo qua, Michelangelo! Per chi non lo conoscesse, questo è il mio pestifero. Il mio gatto tigrato europeo, che ha compiuto tre anni, poco tempo fa. Amore mio, questa è parte di una macchina nuova, non me la demolire con i tuoi dentini, mi raccomando. Allora, torniamo a noi, mi stavo appunto dicendo di provare a inserire questo all'interno, così. Però poi, non cercate di tirarlo fuori da questa parte, ma aiutatevi con qualcosa qua dietro. E lo spingete, spingete in fuori il perno, ok? Allora, la prima cosa che sono andato a fare, ho preso quattro viti SM. Adesso io ho già creato il filetto, le rimuovo e vi faccio vedere come ho fatto. perché tenere questo piccolo elemento in mano mentre si avvitano le diti in un foro dove il filetto ancora non è presente, non è così facile, anzi, tutt'altro. Allora, guardate. Chiodino all'interno. In questo caso, dov'è? In questo caso il chiodino non entra più semplicemente perché, adesso qua sì, perché ho già creato il filetto, mentre invece prima entrava subito. Guardate. Vi create il filetto da questa parte, ve lo create da quest'altra parte e basta per adesso. Poi prendiamo questo pezzo. Prendiamo la colla. Ed è importante questo passaggio perché anche se non ci dobbiamo giocare è importante che le viti non si svitino e questo sicuramente se non avete messo la colla ti basterà girare qualche volta le ruote e comunque questo sistema di trasmissione, come è successo per chi ha fatto la fogra. Antorino, non annusare questo che è acido, c'hanno acrilico e non ti fa bene, amore mio, per favore. Guardate, è proprio una puntina, assolutamente non bisogna esagerare. La mettiamo qui. Ecco, ovviamente all'interno non dovete sporcarlo da questa parte, piuttosto passateci qualcosa sopra. Io ho usato il dito perché sapevo di non aver sbavato nulla, però è meglio non usarlo il dito. Bene, adesso guardate. Semplicemente vado ad avvitarmi due viti SM. Questo passaggio, come vi ho anticipato, vi eviterà parecchi fastidi. Adesso vi faccio vedere. Prima stringo forte. Poi prendo il chiodino e mi regolo. Questo deve assolutamente essere libero di girare, senza alcuno sforzo, ma nello stesso tempo non deve avere gioco. Quindi vedete? Lui sta adesso, man mano, sta diventando più morbido. Però, avendo io messo la colla, queste viti, ogni qualvolta che voi andrete a toccare questo movimento, non andranno a svitare, non andranno a svitarsi, perché ho messo appena appena un po' di colla. Perfetto. Così va bene. E non si muoveranno più da lì. A meno che io, avendo messo pochissima colla, magari andrò poi, vado a svitarle, allora si muoveranno. Diversamente no. Vi fate adesso il filetto anche da questa parte, quindi mettete un chiodino dietro che lo tiene fermo e avvitate, fate attenzione a non ferirvi le dita. Fate la stessa cosa poi per creare di questo filetto, io ho già creato tutte e due. Ecco qui. E adesso faccio la stessa cosa che ho fatto prima dall'altra parte. Questa è una cosa che va fatta sempre quando andate a montare dei giunti a crociera. Primo perché i metalli sono tipo zama, per cui la vite, essendo di ferro acciaioso, già andando a crearsi il filetto tende a consumarlo parecchio e quindi a creare del gioco. E poi inevitabilmente possono svitarsi e il pezzo si può proprio letteralmente staccare. Così è impossibile che questo accada. Perché non deve accadere poi, no? Guardate, il mio gatto si sta addormentando. Fate davvero molta attenzione alle dita in quest'operazione perché ti potreste seriamente ferire, quindi fate attenzione. Stringo forte. Questo, vedete, è libero di girare e sarà sempre così. Non si sviteranno mai le viti. Adesso allento un po' questa e un po' questa. E controllo. Ancora non basta. Ecco qui. Provo a stringerlo un po' di più. Ecco, perfetto. Questo deve fare. Ma non è finita. Questa è una vite AM. Questa qui, amore mio, mi fai sempre compagnia te nei video, amore. Quanto ti amo. Primo piano sulle unghie del mio gatto, guardate. Vieni, amore. Ti fermo. Gliel'ho dovuta appena appena spuntare perché, vivendo in casa, anche senza volerlo ti ferisce. Perché diventano veramente troppo lunghe. Allora, vi stavo dicendo, vite AM. Prima di fare questo, prendiamo il carter sinistro. Eccolo qui. Andiamo a poggiare questa. E facciamo questa operazione. Dobbiamo sentire che è in piano. Il mio non era in piano, quindi ho dato, senza consumarlo, eccessivamente. Ho semplicemente fatto il piano perfetto qua. Vi ricordo che non ho usato l'olio per creare i filetti nel metallo. Ci sono stato attento perché è abbastanza duro questo metallo. Non è un metallo dolce. Quindi attenzione a non rompere le vite all'interno. Perché se poi dovete mettere il collante, non servirebbe a nulla se avete messo l'olio. Perché il collante diventerebbe solido sull'olio e non sul metallo. Poi, stessa cosa, guardate. Una puntina piccolissima di colla. Vi basta già una così. Guardate la punta dello stuzzicadenti. Qui posso chiudere. La metto all'interno. Assolutamente non... Ricordatevelo. Qua. Deve essere pulito. Perché sicuramente voi avete stretto tutta la vite, ma è sbagliato. Anche se non ci dobbiamo giocare, è sbagliato. La vite va stretta, ma deve essere libero, il pezzo deve essere libero di ruotare. Se vi siete creati il filetto, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Appena sentirete il click, sarete certi che la vite ha preso perfettamente il filetto e potrete avvitare. Prima stringo forte. E vedete che il pezzo non gira, praticamente, ma non va bene. A questo punto comincio a allentare appena appena. E provo. Non basta ancora. Ecco qui. Così è perfetto. Non ha gioco ed è perfetto. È libero di ruotare. Però, questo movimento, avendo messo io all'interno la colla, impedirà assolutamente alla vite, con l'attrito dettato dal movimento della vite sopra questo pezzo bronzato, eviterà che si sviti. Vedete, infatti, gira la vite, ma non si svita e non si avvita. E questo sarà sempre il risultato che voi avrete sul vostro modello. Perfetto. Senza gioco, ma con tutti i movimenti possibili. Questo dovete fare. Poi, prendiamo altre due viti SM. Mi sono creato il filetto qui. Questo si mette in questa maniera. Guardate il disegno qui. Nelle istruzioni è specificato molto bene. Così. Queste quattro fiti finte che vedete qui nei fori vanno alla vostra sinistra. Ricordatevi, per chi ha fatto l'abbonamento in edicola, ogni settimana che vi riuscirà il numero nuovo, controllatevi i serraggi di tutte le viti che avete montato, perché si assestano. E quindi vi permetteranno di avvitarle ancora un po'. Dopodiché state tranquilli, perché non si muoveranno più da lì. Qui ho avvitato. Non dovete esagerare, perché questa parte è in plastica e sotto abbiamo il metallo. Quindi, se si deve rompere qualcosa, si rompe questo e non deve rompersi nulla. A questo punto prendo il carter anteriore. Eccolo qui. Prendo una vite a P. Anzi, in realtà possiamo prenderne addirittura quattro viti a P. Quattro. Due vado ad avvitarmele qui, ma soltanto... Guardate quanto le ho fatte avvitare, non di più perché non serve. Soltanto così. Poi una me la vado a avvitare qui. Sotto questa, che dovrebbe essere la pompa dell'acqua, ma ve lo confermo subito. Un attimo che ve lo dico. Sì, questa è la pompa dell'acqua. E questo invece, come ho detto prima, è un dettaglio del carter. E sono andato anche qui a metterla dietro. Ora, metto il pezzo come in figura, così. Siamo qui. Vado a svitarmi la vite a P. Vediamo che si sta tormentando. Così. Qui abbiamo un perno, non ci possiamo sbagliare, ma nel foro dedicato. Eccolo. E' avvito. Adesso prendo la pompa dell'acqua. E faccio la stessa cosa qui. E non vi potete sbagliare. Mi rimuovo queste altre due viti, che vi ricordo essere sempre le viti AP. Prendo questo, il supporto interno, e lo vado a mettere così. Guardate. metto il dito qui e mi metto la mia prima vite. Ricordatevi, non stringete tutto subito. Mettiamo prima la vite. Avete visto, essendomi creato il filetto da... in ogni foro, è tutto più semplice. bene. Ecco qui. Adesso devo andare a inserire questo tubo, ma sono sicuro che si inserisce perché ho fatto la prova all'inizio. Vi ricordate come lo inserisco? Così. E lo faccio andare così all'interno. E lo lascio lì. Poi vedremo nei montaggi successivi cosa ci faranno fare. Ma ricordatevi, se doveste mai andarlo a togliere, non toglietelo da qui. Rimuovetevi questa vite... e andate a spingerlo da dentro, come vi ho fatto vedere. Mi raccomando. A questo punto il montaggio è terminato. Il mio amore è ancora sveglio. Ecco. Mi fai da supporto... Non si muove, eh? Ma quanto ti amo. Allora, aspettate che prendo quello che ho montato fino all'uscita numero 3 e poi ci salutiamo. Questo è quello che ho montato fino all'uscita numero 3. Parte della porta... E la forza di gravità è più forte. La ruota che è stata data completa con l'uscita numero 2 e se mi avete seguito vi avevo consigliato di prenderne almeno 4 perché sono 24 euro ma chi ve le dà 4 ruote così a 6 euro l'una? Non ve le dà nessuno, eh? E sono meravigliose e anche da presentare vicino al modello una sopra l'altra come un treno di gomme. È vero che quella dietro è più grande, però io ricordo, e probabilmente sarà così anche con questa collezione, che una ruota non ti viene mai data completa. Almeno due uscite. Poi invece la seconda ruota, parlo di quella posteriore, ti viene data in un'uscita completa. Ma vedremo. Forse mancherà il gallettone. Ma non ci interessa il gallettone se dobbiamo presentarla come treno di gomme. Poi abbiamo il gallettone, eccolo qua. Meraviglioso. Cerchi campagnolo. Addirittura il piombo qui per l'equilibratura della ruota. Il numero di serie della fusione dell'alluminio, perché questi cerchi erano in alluminio. La cosa splendida che ha fatto anche Centauri, a differenza, seppure un modello meraviglioso, uno, secondo me, dei migliori modelli particolareggiati, la Lancia Stratos HF all'Italia del grande Sandro Munari, soprannominato il Drago, e del suo copilota navigatore Silvio Maiga, che ha vinto, tra i tanti titoli, il Rally di Monte Carlo del 1976, dietro, essendo il cerchio giallo, è in metallo davanti, ma questa parte è in plastica. Hanno fatto un errore. Però poi hanno migliorato in questo modello, perché è sempre edizione Centauri, facendo questa parte in metallo. Così dovete fare Centauri. Sempre così. Ecco, migliorarsi sicuramente, sembra banale da dire, ma non è così. Per tutti. Però rimanete fermi a 100 uscite. Già 110 sono veramente tante, figuriamoci poi 120. Rimaniamo fermi a 100 uscite. E state pur certi che avrete molti più clienti che cercare di fare 20 uscite più per fare 260 euro in più, oltre all'aumento di un euro a fascicolo, quindi sono 260 più 98 uscite a un euro, fa 98 euro, sono 358 euro in più a modello. Sono troppe. Tante e troppe. E sono ingiustificate. Ci basta l'aumento delle materie prime, 98 euro, è giusto. Però, ecco, cercate di mantenere i clienti che vi danno da mangiare, e grazie perché ci date la soddisfazione e la possibilità di poter comprare questi modelli, almeno io parlo per me, che diversamente non potrei acquistare. E di questo vi ringrazio. Però, bisogna dire anche l'altra faccia della medaglia, no? Poi abbiamo il volante tutto in metallo. Attenzione a questa parte che, pur essendo in metallo, se lavora in maniera corretta non ci sono problemi, ma se andate a piegarla si spezza. E' ovvio che nessuno va a piegarla, però magari andate a metterla in un posto, a riporla in maniera sbagliata, ci appoggiate qualcosa sopra e lei si piega. E vi basterà due o tre volte cercare di adrizzarla per spezzarla. Attenzione. Soprattutto questo pezzo. Lavorate bene sul particolare, non montate così senza guardare che sia diritto, che questo pezzo guardate. Io ve le spiego le cose nei video. Poi mi dite, i video tuoi durano di più. E ragazzi, montare non ci vuole nulla, è spiegare che ci va più tempo. E soprattutto arrivare a tutti, permettere a tutti di poter intervenire. Se dovessi essere, tra virgolette, più tecnico, ci metterei molto meno tempo. Ma quanti di voi sono tanti esperti, così esperti nel modellismo? Cioè, nel senso di uscire a neanche esperti, perché non lo sono nemmeno io, ma che hanno un po' più di esperienza. Ecco, che poi vorrebbe dire la stessa cosa. Praticamente mi sono incasinato, lasciamo perdere, avete capito cosa volevo dire comunque. Ecco qui, vedete, anche questa parte è importante. Questo perno deve arrivare qui. Se non avete lavorato con la lima, che era troppo sbavato, come vi ho fatto vedere, e poi è normale che il volante vi rimarrà più all'esterno. E' così. I particolari, se li curate, fanno la differenza. Poi abbiamo questo bellissimo stemma col cavalino rampante di Sandro Ferrari. Guardate che meraviglia. Eccolo, così è bellissimo proprio. L'avete visto? Mi piace? Allora, ecco. Eccolo qua. Come ho già detto negli altri video, la vera Ferrari ha questo inserito più giù rispetto alle razze. Invece questo sta a filo addirittura un po' fuori dalle razze. Però, ragazzi, è un dettaglio, ma è bellissimo. Ovviamente va messo in maniera corretta, diritta, non così. Deve essere messo così su questa razza. Poi abbiamo il freno a disco. O meglio, scusatemi, no il freno a disco. Abbiamo il disco dei freni. E che altro vi devo far vedere? Nient'altro. Io penso che questo video si può chiudere qui. Io vi ringrazio a tutti del vostro tempo. Grazie a tutti, veramente, ragazzi, con tutto il cuore. Che vi posso dire? Se avete piacere di guardarmi, e non vi annoiate, io vi dico grazie. E se vi iscrivete, ancora di più. Stavo guardando che sono 33 minuti, e mi viene anche a me da dire che è lungo il video. Ma sapete, io non me ne sono accorto. Probabilmente non sono a posto con la testa. Però non so che altro dirvi. Mi è volato. Adesso vado a preparare l'uscita numero 4, poi l'uscita numero 5, e poi vado a fare le uscite della portiera a destra della Ford Gran Torino di Starsky & Hatch. Ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto. Un saluto a tutti i vostri cari più cari, e grazie sempre con tutto il cuore del vostro tempo. E un saluto anche dal mio amore Michelangelo. Ciao amore mio. Eccolo qui. Quanto sei bello amore. Quante cose che ha fatto Dio, meravigliose tutte. Probabilmente, anzi, senza anche dire probabilmente, siamo noi che roviniamo tutto. Bene. Ciao a tutti.